Ben ritrovati, ampio spazio alla mobilità in questa edizione del nostro TG Oggi. Partiamo da quanto è accaduto questa mattina in una riunione alla Capitaneria di Porto per affrontare la questione relativa al traffico in entrata e in uscita dallo scalo commerciale. Sono stati adottati una serie di dispositivi e sembra al momento scongiurato anche lo sciopero dei trasportatori. Alla presenza anche dei rappresentanti delle Federazioni Autotrasportatori Italiani che, come anticipato dal comandante della Capitaneria di Salerno, potrebbe ora sospendere lo stato di agitazione già proclamato dal 21 al 25 maggio. Ad annunciare e definire una serie di dispositivi è stato poi il rappresentante dell'autorità di sistema del Mediterraneo, l'ingegner Francesco Messineo. Siete riusciti a scongiurare lo sciopero del 21 al 25 maggio degli autotrasportatori? Siamo riusciti a strappare una promessa. Il dottor Punzi intercederà, preso atto del nostro buonsenso, del nostro saper fare e voler fare, l'impegno a intercedere presso l'associazione finché venga revocato lo sciopero. Anche perché è una cosa importante da dire. Si sciopera, ma dopo questo porto, cinque giorni di inattività, ci poniamo il problema per cui stiamo qua, no? Per quello che riguarda Via Ligea, sono già partiti i lavori per arretrare la recensione del cantiere di Porta Ovest verso la montagna, perché negli anni scorsi la recensione di quel cantiere aveva occupato una delle corsie destinate alla circolazione urbana lungo Via Ligea. In questo modo, i lavori sono già in corso all'interno del cantiere, restituiremo le due corsie di andata e ritorno dal parcheggio sotto la Baia al centro di Salerno alla viabilità urbana, ripristinando quel dispositivo che si era dimostrato molto efficace quando fu attivato nel 2007-2008 di separazione netta tra due corsie dal lato del porto, di ingresso al porto per i camion, e le due corsie esclusivamente destinate alla viabilità urbana. Come sapete, da quando c'è il cantiere di Porta Ovest, c'è una commissione di traffico che purtroppo ha creato congestione per entrambi i flussi, quello diretto al porto e quello diretto alla città. All'interno del porto la congestione, prima di tutto, è creata dalla scarsezza di aree retroportuali, quindi molti veicoli sostano all'interno del porto diverse ore e i livelli di crescita dei traffici del porto non lo consentono più. In realtà, purtroppo, anche l'incidente mortale che è avvenuto all'inizio del mese di maggio in area retroportuale, quella era proprio un'area che era destinata alla sosta dei veicoli che operano per il porto. In questo momento, dopo quel tragico incidente, sono in corso i lavori di messa in sicurezza di quell'area che saranno ultimati lunedì e quindi lunedì quell'area che un polmone del porto rientrerà in piena operatività. E a proposito di mobilità, Salerno questa mattina è stata tappa del festeggiamento dei 90 anni dell'ANAS in piazza della Concordia, il track per raccontare la storia dell'ANAS. Si trattano di sette tappe che attraverseranno tutto il paese, ma naturalmente c'è stata anche occasione con il direttore territoriale dell'ANAS di fare il punto della situazione sui lavori. Proprio in questo momento la tangenziale di Salerno è interessata da una serie di interventi. Vediamo se dalla regia è pronta l'intervista al direttore territoriale dell'ANAS. Un attimo mi dicono e ascolteremo appunto Nicola Aprisco, con il quale abbiamo fatto il punto anche sull'intervento che riguarda l'ammodernamento e l'ampliamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino. Vediamo se è pronta l'intervista a Nicola Aprisco. Eccola. Quali saranno i prossimi investimenti su Salerno da parte dell'ANAS che proprio in questo periodo sta intervenendo sulla tangenziale? Buongiorno a tutti innanzitutto. Gli investimenti per Salerno, innanzitutto le manutenzioni. Abbiamo in atto, come sapete, alcune manutenzioni sono dei viadotti, purtroppo creano qualche disagio, però io dico sempre che i disagi sono inevitabili se si vogliono fare i lavori. In particolare per queste due lavorazioni le abbiamo cercate di concentrare al di fuori del periodo delle luci d'artista e al di fuori del periodo estivo. Purtroppo adesso stiamo creando qualche disagio, però sono disagi necessari se si vogliono fare le manutenzioni. Oltre a questi due lavori abbiamo in programma dei lavori di manutenzione per l'impianto di illuminazione della tangenziale e per alcune gallerie, in particolare il Masso della Signora. Poi abbiamo in programma sempre sul raccordo Salerno-Avellino dei lavori di manutenzione, sempre per le barriere, per l'illuminazione in particolare per la galleria Monte Pergola che abbiamo fatto qualche lavoro, ma abbiamo ulteriori lavori da eseguire. L'accordo aspetta da tempo anche il famoso ampliamento. Per quanto riguarda l'ammodernamento e la terza corsia, che punto si è? Il punto è che nel nostro contratto di programma 2016-2020 c'è il finanziamento per i due lotti da Fisciano a Fratte per circa 230 milioni di euro. Attualmente la procedura è stata approvata, è stato approvato il progetto preliminare del Cipe. Attualmente stiamo sviluppando il progetto definitivo per acquisire i pareri dagli clienti competenti. Per quanto riguarda invece l'acquisizione della Cilentana? Per l'acquisizione della Cilentana è stato già pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto di statizzazione. Ma ecco, proprio sulla Cilentana per far rilevare l'importanza dell'acquisizione da parte dell'ANAS è intervenuto alla conferenza stampa per presentare anche il più ampio progetto di utilizzare le strade anche per valorizzare il turismo nella regione Campania. L'assessore regionale Corrado Matera che si è espresso anche sugli importanti riconoscimenti attribuiti alla provincia di Salerno con le bandiere blu. Ascoltiamo Corrado Matera. Nel senso dell'area interna, assessore, l'ANAS dovrà occuparsi anche della Cilentana presto? Certo, sì, questo è un altro risultato importante. Io penso che la Cilentana... Nel senso dell'area interna, assessore, l'ANAS dovrà occuparsi anche della Cilentana presto? Certo, sì, questo è un altro risultato importante. Io penso che la Cilentana negli anni ha rappresentato sicuramente una grande criticità. Io sono convinto che questo problema in parte sarà, o meglio, sarà sicuramente risolto. Assessore, ieri è stato anche il giorno del riconoscimento delle bandiere blu, Campania terza in Italia, insomma, un bel risultato. Guardi, io sono convinto che questa è dovuta anche all'azione che con il Presidente De Luca abbiamo messo in campo. Noi stiamo lavorando sull'integrazione territoriale e sulla diversificazione dell'offerta turistica. Tenga presente che ha avuto una grande visibilità quest'anno, una grande forza la destinazione Cilento e tenga presente che il riconoscimento della bandiera blu è sicuramente dovuto al mare, alle acque che sono splendide, ma non solo, anche ai servizi che ne vengono, che sono collegati. Dobbiamo valorizzare l'ambiente e garantire anche alcuni servizi. Noi da qualche anno abbiamo messo in campo un servizio di mobilità turistica che ha avuto e che sarà riconfermato, che ha avuto sicuramente un significato importante e io sono convinto che più componenti, il mare splendido, l'attenzione da parte dei sindaci nel monitorare le spiagge, anche i risultati ottenuti anche con la raccolta differenziata perché questa significa anche tutela dell'ambiente e i servizi ai quali mi facevo riferimento, ad esempio la mobilità turistica, io sono convinto che tutti questi elementi hanno portato ad un riconoscimento importante della Campania e in modo particolare della destinazione Cilento che rispetto al passato inizia ad avere numeri sicuramente significativi e rilevanti. Ecco, facciamo il punto proprio sull'assegnazione delle bandiere blu. Sono 13 le località, una in più rispetto all'anno precedente in provincia di Salerno, premiate dal riconoscimento della FE. Anche quest'anno il Comune di Agropoli conferma le bandiere blu per le spiagge Iaprodi. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di consigna a Roma dell'importante riconoscimento internazionale, il quale viene assegnato alle località turistiche e balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e dai servizi offerti. Oltre alla spiaggia del lungomare San Marco e della Baia di Trentova, l'importante vessillo sventolerà anche quest'anno sulla spiaggia della Marina, presso il porto turistico. A ricevere la bandiera blu per il quarto anno consecutivo è invece il Comune di Capaccio Pestum. È un motivo di grande orgoglio ricevere questo riconoscimento nell'anno che vede la Campania, con ben 18 bandiere a blu, essere la prima regione del mezzogiorno e la terza in Italia per mare pulito e salvaguardia dell'ambiente, ha commentato il sindaco Franco Palumbo. Bisogna continuare il lavoro che si sta facendo, con la collaborazione di tutti, affinché questi risultati così eccellenti e importanti possano migliorare di anno in anno, favorendo servizi sempre più efficienti ai nostri cittadini e ai turisti. È per il ventesimo anno consecutivo che Castellabate e il suo mare sono primati dell'ambito riconoscimento della FEE. Ieri a Roma la consegna ufficiale della bandiera blu delle spiagge al vice sindaco Luisa Maiuri è responsabile dell'ufficio turistico Enrico Nicoletta. Le altre località che hanno ricevuto l'importante riconoscimento sono Montecorice, con Agnone e Capitello, Pollica, con Acciaroli e Piuppi, Casalvelino, Pisciotta, Ascea, Centola Palinuro, Vibonati Villamare, Sapri e San Mauro Cilento. E a loro si è giunto quest'anno per la prima volta anche il Comune di Ispani con Capitello. A proposito di turismo, è destinato a diventare un nuovo polo di attrazione turistica per la città di Salerno, l'ex Forte Lacarnale. Ieri in Commissione Turismo al Comune di Salerno, l'EPT ha presentato il piano che potrebbe trasformare l'ex Forte Lacarnale in un tempio per la dieta mediterranea. Via Libera ad un progetto di valorizzazione del Forte Lacarnale, bene culturale di grosso valore per la città di Salerno da tempo indisuso. La terza commissione consigliaria di ammione turismo del Comune di Salerno, presiduta dal consigliere Massimiliano Natella, ha infatti previsto un progetto di respiro internazionale per la valorizzazione della dieta mediterranea. Grazie ad un disegno di legge della regione Campania, al Forte Lacarnale sarà dunque realizzato un polo creativo per la dieta mediterranea. Il progetto prevede la partecipazione dei sette stati membri ad un modello nutrizionale che dal 2010 è stato inteso nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. La struttura e l'area circostante ospiteranno un polo di vendita dei prodotti tipici della dieta mediterranea, un'area di registrazione, una biblioteca multimediale sulla dieta mediterranea, un'area di vendita, prevista anche la valorizzazione della collina per la coltivazione delle spezie tipiche della dieta mediterranea. Sicuramente si è avuta la possibilità di apprendere tramite l'EPT delle volontà della regione Campania di voler rimettere in gioco questa struttura, ridonarla alla città di Salerno ma con un respiro ampio internazionale. Noi ricordiamo tutti la storia, l'epilogo del Forte Lacarnale, è stata una struttura che negli anni è utilizzata per dei fini locali e probabilmente nell'ultimo periodo anche sopportata dai cittadini. Oggi invece noi abbiamo parlato in Commissione Annone e Turismo già da un anno e auspicavamo un progetto di valore e di livello per la città di Salerno e quindi oggi apprendiamo che ci sarà un progetto di respiro internazionale perché coinvolge i sette stati membri della dieta mediterranea che ricordiamo è stata nominata fra i beni immateriali patrimonio dell'UNESCO nel 2010 e quindi qui ci sarà un polo adatto alla promozione della dieta mediterranea con una serie di attività che valorizzano il colle, che valorizzano la struttura che di per sé è un bene culturale di valore inestimabile per la città di Salerno. Cambiamo argomento, parliamo di inquinamento e del sospetto che nell'area di Campolongo ci siano dei rifiuti interrati e quanto hanno denunciato ieri alcuni consiglieri comunali di Eboli. Rifiuti pericolosi interrati a Campolongo e in altre località agricole di Eboli. L'allarme è lanciato dall'opposizione al Comune in un incontro che ha visto ieri il consigliere di Forza Italia Damiano Cardiello, il capogruppo di MDP Antonio Conte, l'ingegner Erasmo Venosi ma anche il Comitato per la Salute Pubblica del Cittadino della Valle del Sele ed Eboli dice no richiedere con forza l'intervento di controllo e analisi dei luoghi di Noe, Regione ed Arpac per verificare soprattutto la sussistenza di alcune intercettazioni della DDA che porterebbero a un possibile accordo tra un intermediario di Bellizzi coinvolto in una recente operazione antidroga ed alcuni agricoltori per lo smaltimento illecito di rifiuti tossici nei terreni. Lo stesso Comune, attraverso l'assessore all'ambiente Egnoginetti, raccogliendo le segnalazioni, ha deciso di inviare una nota alla Regione perché attivi l'Arpac per un intervento urgente sulle località. Restiamo nella Piana del Sele, è ai limiti del collasso la situazione allo stir di Battipaia dove sono tornate le code di camion provenienti dai comuni che conferiscono i rifiuti nell'impianto di Via Bosco. I lavoratori di Ecoambiente e la società che gestisce lo stabilimento continuano a garantire il proprio servizio pur restando in stato di agitazione. Inizia un'altra settimana di passione, dinanzi all'ex stir di Battipaglia tornano le code di camion provenienti dai comuni che conferiscono i rifiuti dell'impianto di Via Bosco II mentre i lavoratori di Ecoambiente, società che gestisce lo stabilimento, continuano a garantire il proprio servizio per un stato di agitazione. La palla passa la provincia di Salerno con il commissario liquidatore Vincenzo Petrosino e il presidente Giuseppe Canfor a trovare la più rapida soluzione possibile per venire incontro alle richieste di operatori e sindacati che vorrebbero la modifica dell'atto notarile di messa in liquidazione per la salvaguardia occupazionale degli 84 lavoratori con l'eventuale cessione della società. Presto dovrebbe esserci la nuova convocazione dei soci, mentre sul fronte del conferimento il rallentamento prosegue con sullo sfondo anche il recente attacco della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, che aveva chiesto un nuovo intervento della prefettura di Salerno dinanzi al caos minacciando di procedere all'ordinanza di divieto di transito dei camion diretti all'ex stir sul territorio comunale. Battipaglia che ha dovuto la scorsa settimana fare i conti con il mancato conferimento del multimateriale con l'espresso invito alla cittadinanza a non depositare sacchetti per strada con la raccolta che riprenderà regolarmente su questa tipologia di rifiuto giovedì mattina. Dall'altra parte della provincia di Salerno, in costiera amalfitana a Cetara, si trovano in una delicata fase di impasse i lavori per il nuovo impianto di depurazione che secondo le previsioni entro il mese di maggio doveva essere allacciato attraverso una condotta sottomarina all'impianto di sollevamento di vietri sul mare. Sono ancora ben lontani dal concludersi i lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione del comune di Cetara che deve essere allacciato attraverso una condotta sottomarina all'impianto di sollevamento di vietri sul mare per poi convogliare le acque reflue di entrambi i comuni all'impianto di depurazione di Salerno. Il progetto, finanziato dalla regione Campania con fondi europei e avviato sulla carta da almeno un decennio in concertazione con i due comuni coinvolti, stava per giungere finalmente in porto risolvendo in maniera definitiva il problema dell'inquinamento marino nelle prime due perle della costiera amalfitana almeno per quanto concerne i refri urbani di competenza pubblica. Nelle scorse settimane però c'è stata una levata di scudi da parte del comune di vietri sul mare che ha contestato il progetto sostenendo di non aver mai autorizzato l'allacciamento della condotta sottomarina all'impianto di sollevamento situato a marina cosa che però è stata smendita dai verbali della conferenza dei servizi del 14 dicembre 2012 quando lo stesso sindaco di vietri sul mare così come quello di cetare del presidente dell'ausino espressero parere favorevole al progetto sulla delicata fase di impasse dei lavori che secondo le previsioni dovevano concludersi entro fine maggio è intervenuto il comitato vietrese per la difesa dei beni comuni che nei giorni scorsi ha avuto un confronto con i tecnici della provincia incaricata dalla regione come soggetto attuatore del progetto abbiamo constatato la bontà dell'intervento nel migliorare anche il funzionamento dell'impianto di depurazione a servizio del comune di vietri si legge in una nota quello dell'amministrazione comunale vietrese che non concede le autorizzazioni richieste per dare corso ai lavori nel suo territorio appare pertanto una posizione senza giustificazioni plausibili l'auspicio concludono gli attivisti del comitato e che vietri possa dare le richieste e autorizzazioni in tempi brevi onde evitare aggravi dispese al progetto e dilazione dei tempi di realizzazione dei lavori che potrebbero terminare prima che cominci la stagione balneare per la cronaca andiamo a battivaia dove c'è stata una mattinata agitata all'ospedale Santa Maria della Speranza per una ragazza che dopo aver partorito d'urgenza due gemelli è entrata in coma i neonati, un maschietto e una femminuccia a quanto filtra dall'ospedale della Piana del Sele stanno bene, nessuna complicazione per loro mentre la mamma sarebbe in pericolo di vita tenuta sotto stretta osservazione dai medici Tornati in studio parliamo di ZES, le zone economiche speciali prende sempre più piede il progetto spinto con forza dal governo regionale a Salerno la ZES sorgerà alle spalle del porto mentre a Castella San Giorgio l'amministrazione comunale ha deliberato l'alienazione del complesso dell'ex marina militare in località Codola che rientrerà nella zona economica speciale istituita lo scorso 28 marzo messo all'asta dal comune di Castella San Giorgio il complesso immobiliare Parco Figorifero e raccordo ferroviario Codola ex marina militare l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lanzara ha deliberato l'alienazione del complesso rientrando nella ZES zona economica speciale istituita il 28 marzo ultimo scorso la vendita all'asta dell'immobile denominato completerà un'area di circa 20.000 metri quadrati con all'interno due palazzine e cinque capannoni industriali che venivano adibiti a deposito di derrate la grande attrattiva logistica però dell'intero complesso è data dal confine con il casello autostradale della 30 e la possibilità di utilizzare il trasporto su ferro una posizione strategica che consente il facile raggiungimento di importanti poli industriali quali il porto di Salerno e l'interporto di Nola all'interno del deposito infatti esiste una linea ferroviaria di diramazione dalla stazione di Codola nei fatti ancora perfettamente funzionante con piccoli accorgimenti insomma un vero e proprio porto di interscambio tra trasporto su gomma e quello su ferro senza la necessità di attraversare i centri abitati le peculiarità di quel complesso spiega il sindaco Paolo Lanzara sono date proprio dalla possibilità di utilizzare il sistema ferroviario e di interscambiarlo con quello su gomma e la vicinanza di appena 100 metri dall'imbocco dell'autostrada Caserta Roma una condizione unica nel suo genere che non ha bisogno di alcun investimento realizzativo oltretutto l'area del 28 marzo scorso rientra nella zona zesso della regione Campania e questo ne aumenta di molto il suo valore l'alienazione di questo bene continua il primo cittadino ai confini con la città di Nocele Inferiore siamo certi porterà alla nostra comunità in dubbi vantaggi in termini di sviluppo e nel contempo permetterà a chi decide di investire di poter beneficiare dei vantaggi della zona economica speciale le procedure di alienazione sono state affidate all'ufficio tecnico e al dirigente e l'architetto Carmine Russo con la vendita del complesso il comune di Castel San Giorgio conta di recuperare la liquidità in sofferenza per la mole di debiti fuori bilancio in gran parte scaturiti da sentenze passate in giudicato per vecchi contenziosi alcuni dei quali risalenti anche a 30 anni fa ed ora la nostra consuetta rubrica Cineforum al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia a Salerno dove oggi è in programma il film di Paolo Virzi, Ella e John tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 6 euro ridotto 5 euro per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo, ti divertirai, te lo prometto Tra poco la nostra informazione sportiva, ci ritroviamo subito dopo le previsioni del tempo In collaborazione con Eureka! Ho trovato la mia oasi di relax in città tra spiaggia e piscina Eureka! A Salerno in via generale Clark 54 con ampio parcheggio Info 089 33 49 23 Trascorri con noi le tue giornate d'estate Revisioni per oggi Al mattino sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita In montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita Nel pomeriggio sulle coste nubi irregolari con deboli temporali In montagna nubi irregolari con temporali Revisioni per domani Al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparsi In montagna schiarite alternate a nubi sparsi Nel pomeriggio sulle coste nubi irregolari con acquazione intermittente In montagna nubi irregolari con deboli temporali Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo Intanto iniziano le grandi manovre in Casa Granata Bernardini ha firmato un triennale In difesa si aspetta di conoscere il destino di Tuia e in tanti sono con la valigia dietro l'angolo Ritrovarsi dopo essersi detti addio dal divorzio al nuovo matrimonio Alessandro Bernardini e la Salernitana hanno deciso di proseguire la loro avventura insieme per altri tre anni Il difensore di Domodosso la classe 87 resterà in Granata fino al giugno 2021 A Salerno dal novembre del 2015 Bernardini ha totalizzato 77 presenze ed un gol in maglia Granata L'ex del Livorno non disputa una gara ufficiale dal 28 dicembre del 2017 quando la Salernitana uscì sconfitta pesantemente per 3-0 dalla trasferta sul campo del Palermo Con il nuovo anno Bernardini è scomparso dai radar a causa di un problema fisico a cui si sono sovrapposti quelli di natura contrattuale Il Novara si era fatto avanti ma nelle scorse settimane la Salernitana e il suo entourage avevano ripreso i contatti trovando l'intesa per il rinnovo a salvezza acquisita Il tutto bisogna dirlo complice a una classifica che si faceva sempre più preoccupante per i piemontesi di Novara e che in caso di malaugurata retrocessione avrebbe reso carta straccia l'accordo già raggiunto con il difensore di Domodossola La Salernitana ha cavalcato l'onda appena raggiunta la salvezza il club Granata ha annunciato il rinnovo triennale del contratto del difensore Dopo Bernardini sarebbe il caso di chiudere la telenovela Tuia in Granata dal 2012 il cui contratto però scade a giugno Per il momento non sembrano esserci trattative concrete in corso In difesa sono sotto contratto anche Mantovani e Schiavi mentre Monaco è in prestito dal Perugia Il giocatore non sarà riscattato dalla Salernitana troppo alto il costo del suo cartellino fissato dal grifo a 700.000 euro Nel reparto arretrato sono legate alla Salernitana i tersini Casasola Popesco, Pucino e Vitale gli ultimi due hanno un solo anno di contratto ancora Vitale potrebbe salutare a fine stagione La Porta invece è vuota visto che Radunovici e Adamonis non sono di proprietà e Russo ha un contratto fino al termine della stagione Radunovici tornerà all'Atalanta Adamonis alla Lazio in Mediana invece sarà a Rivoluzione Zito, Gerr e Signorelli sono sul mercato Minala, Ricci e Chin sono in prestito mentre Akpac Pro sta provando a meritarsi la conferma Il contratto dell'ex Toso Losa scade a giugno ma c'è una clausula di rinnovo triennale che la Salernitana sta valutando di esercitare Colantuno gli sta dando spazio in questo finale di stagione e non è escluso che per il centrocampista del 92 arrivi la conferma in Granata andrà via invece della Rocca in attacco torneranno dai prestiti Alex Cicerelli e Roberto ma soltanto per rifare le varigie Rosina altri due anni di contratto come Bocalon ancora un anno per di Roberto e Sprocati che difficilmente rinnoverà Rossi e Palombi sono in prestito dalla Lazio il primo potrebbe restare per maturare ancora mentre il secondo ha avuto un ambientamento difficile e proverà a rilanciarsi altrove e allora spazio al basket la Givova apre le porte per la bellissima di domani contro Ferrara solo per i residenti campani l'ingresso gratuito sulle gradinate del Palamangano in occasione di gara 5 degli ottavi di finale playoff del campionato di serie A2 contro la Bondi Ferrara in programma domani sera alle 20.45 sarà riservato ai soli residenti in uno dei paesi della regione campagna tutti coloro i quali invece non sono residenti in campagna o sono interessati ad occupare un posto a sedere in un settore diverso dalla gradinata potranno acquistare i titoli di ingresso al botteghino posto all'ingresso della struttura anch'esso aperto a partire da due ore prima della sirena a salvaguardia dei propri abbonati ai quali come già accaduto in occasione di gara 1 e gara 2 della serie la società ha voluto eccezionalmente consentire l'accesso alla struttura di Viale della Gloria esibendo la propria personale tessera di abbonamento e la riserva del posto a sedere indicato si puntualizza che chiunque accederà al Palamangano potrà occupare solo ed esclusivamente i posti a sedere parterre escluso liberi e non riservati agli abbonati della stagione regolare a cui è stato concesso tale privilegio anche in post-season la Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno batte Senigallia in gara 3 ed accede alle semifinali dei play-off del campionato di basket di serie B 89 a 79 il punteggio finale in favore del team del presidente Ennello Renzullo che si aggiudica la bella in un pala silvestri da record il roster allestito dal DS Pino Corvo ha dovuto sudare più del dovuto per superare i marchigiani ma alla fine ha vinto meritatamente la partita e la serie alla luce di quanto si è visto nell'arco dei tre confronti il quintetto di coccio Orlando Menduto dopo lo svantaggio accusato proprio in avvio di gara ha messo il muso avanti sin dalle prime del primo quarto e a parte qualche passaggio a vuoto nel terzo periodo non ha mai permesso ai viaggianti di condurre le danze in semifinale la Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno affronterà Sansevero che ha chiuso in due partite la serie con il basket Scauri le prime due partite si giocheranno in programma domenica 13 maggio e martedì 15 si giocheranno dicevamo in casa dei pugliesi poi la serie si sposterà al Pala Silvestri di Matierno ed ora l'handball ad un passo dal tricolore manca davvero poco l'appuntamento è per giovedì prossimo alle 20.45 la palestra caporale maggior palumbo per la gara 2 della finale scudetto della serie A di pallamano femminile le ragazze guidate in panchina da coach Nev Rupek hanno l'opportunità di chiudere i conti e di concedere il bis dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno Coppola e compagne non devono però assolutamente abbassare la guardia le salernitane non devono cullarsi sul successo ottenuto domenica sera al Pala San Giacomo in gara uro con il risultato finale di 25 a 18 l'indecco conversano venderà infatti cara la pelle prima di cedere il passo alle avversarie dobbiamo restare concentrate ha detto la cubana Gomez e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia sappiamo bene cosa dobbiamo fare anche in occasione della gara 2 è tutto termina qui il nostro appuntamento con informazione grazie per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie per la visione